Amiche ed amici buona domenica a tutti, cominciamo con i vostri messaggi con Edoardo preoccupato per una truffa e dice vorrei raccontare quello che succede ad Arezzo verso San Giuliano mi dicono che c'è una banda di persone del sud e non voglio generalizzare che da tempo fa truffe di questo genere, ti tirano sassi in direzione della tua auto poi si affiancano, ti fanno cenno di fermarti e ti dicono che gli hai rotto lo specchietto tu ovviamente per non incorrere nel bonus malus quant'è? 100-200 euro? è una truffa vecchia caro Edoardo e avviene perché le nostre assicurazioni hanno il bonus malus se non l'avessero ognuno denuncierebbe gli incidenti e questi in due minuti verrebbero scoperti è vero c'è questa truffa, state attenti Luciana, Jacopino e me dice ciao tesori Fabrizio sulla quarta caravella, il filmato di Jacopo di domenica scorsa mi pare un'operazione originale, approfondimento storico portato avanti con rigore metodologico e finalità accademiche degne di nota, grazie Fabrizio con Jacopino al mare, Maria Stella dice oddio che giornata c'era anche lei ovviamente memorabile, fantastica, Jacopino poi non si discute, ci ha fatto troppo divertire è vero un bacio a Maria Stella Pitti, Gino così si fa la televisione insomma oddio ne esageriamo eh troppo divertenti, intelligenti, sagaci, rilassanti e capaci, bravi così si fa la televisione, valla a dire a quelle teste di cazzo che ci hanno mandato via quando si faceva così, Luca la quarta caravella, ah 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 già pare una storia interessante, grazie sì perché ci sono altre puntate vero Rita, è chiaro Gianni, questo filmato della caravella è divertentissimo ci fate divertire veramente, parlo al presente perché Jacopo è sempre in mezzo a noi, è vero Auar, poi la quarta caravella, Jacopo immenso, grande Daniele le schedine usurate, il servizio che abbiamo fatto al giallo e verde delle ville è verissimo Franceschi, mi tocca giocare volta per volta perché se effettuo le 10 o 15 peggio giocate tutte insieme le ultime 5 o 6 rimangono illegibili io sono già cotto qui, te lo dico prima allora super in adotto Napoletano Verace dice lo Stato approfitta delle nostre debolezze e oltre a fregarci i soldi con tutti i giochi non ci permette di controllare se abbiamo vinto se è Napoletano rompi i coglioni sulle truffe Luca, grande Leo cazzo è il figliolo dei Felicetti Zorro, perché un uomo senza A voglio Riccardino con me evidentemente si riferisce allo spot della lavanderia perché dice voglio Riccardino con me perché è un uomo senza macchia e se ce l'ha la cava in lavanderia Botolo, troppo togo un medire che ti piace più Riccardino di quella bionda della lavanderia eh coso, se no se finocchio comunque Rita quella della lavanderia non è male per niente va avanti va bene Laura, che simpatia a Riccardino alla tenerezza aggiungi comicità imbarazzo pazzie e sorriso il risultato è Riccardino adorabile Renzo Riccardino del Bancomat secondo me Riccardino è il totò del terzo millennio mi fate morire ora e io allora l'ente non del terzo millennio Gian Maria il Bancomat di Riccardino Yellow Barbie nel buco ovviamente riferito ad una frase dentro il filmato Nadia sul prevo Bancomat me la immagino la mia nonna che scalcetta perché per tenere lontani i copioni Roberta consigli per rimanere grande Riccardino Laura cani venduti in spiaggia questo è un articolo che ho fatto io in alto a destra sulla home page ti giuro Franceschi che quando ho letto quando ho letto il tuo intervento a riguardo pensavo che come fai spesso scherzassi purtroppo no verificato sul web che era tutto vero sono rimasta basita perché non puniscono certa gente con molti esemplari oltre a rimandarli in Romania o da dove cavolo vengono questi erano due rumeni che vendevano i cani in spiaggia portati dentro un sacco Silvia ancora sui cuccioli bene facciamo un cambio mettiamo i due tipi nella sacca chiudiamola bene prendiamola a calci e buttiamola in mare in alto mare accorpamento provincia Massimo dice con i politici che abbiamo toccherà mangiare panforte il peso a retina presso che pare a zero ovviamente riferito al fatto che ci manderanno forse con Siena Aldo ancora ci manderanno con Siena ma mica saranno matti se fa la guerra civile anzi incivile Marco Siena lo sai che che mi dice di Siena a mio babbo eh anche il mio me lo diceva che Siena di tre cose piena di torri di campane e di figli di gran senza dire perché puttane in tv non si può dire Stefano accorpamento comunque a Siena dicono che da Rezzo non vi è manco buono il vento eh perché li vengono a Tramontano Stefano per me in caso meglio Siena che Firenze ma la mia è solo una mia opinione vedi ognuno ha la sua eh Lucifero insieme a Siena ma siamo matti e migro Nanni è il meglio se ci mettono insieme insieme con la Z perché la retira insieme se ci mettono insieme a Siena si fa top tutti i giorni Simona bisogna fare più figli ci impegneremo ok thank you Leo perché la provincia di Arezzo è vicina ai 300 mila che sono la soglia 350 mila che sono la soglia per avere la provincia Violetta sempre sul fare figli per tenere la provincia ho già dato vabbè fanno in altro e infine Botola Rappato unione delle province con Siena gli si trombon tutte ste senesi così dopo chiacchiere o meno vedrei ecco su queste note raffinate di Botola Rappato Leonardo Franceschi dai giardini pubblici perché mi chiedete sempre da dove riprendete dai giardini pubblici davanti a Carabinieri che ci vuole un pochino più d'alberi non lo so cazzo o ci mettete l'alberi o sotto l'ascella il rosmarino per quest'altra volta grazie a tutti grazie a tutti